Non è vero. Non ha una moto. Le moto sono la sua passione? Ma perché ha dichiarato di averne una se non è vero? Ragazze, vi rendete conto di quante bugie racconta? Sono senza parole, ha dichiarato Alessia. Dopo la fine della trasmissione, Lino Giuliano, supportato da Mike Arandazzo, ha continuato a parlare del tema della moto, sottolineando di possederne una e lanciando frecciatine ad Alessia Pascarella. In un video su TikTok, Lino appare su una piccola moto giocattolo dicendo, per tutti coloro che dicevano che non avevo la moto. Maika, sto arrivando a prenderti, accompagnato dalla didascalia. Ecco la moto che stavate aspettando. In un altro video, Lino finge di essere sopra una moto con Maika. Lino Giuliano continua a lanciare frecciatine ad Alessia, con la complicità di Maika, attraverso i suoi video sui social media. Nel frattempo, in merito alla moto e alla mancanza di viaggi insieme, di cui si era lamentata Alessia Pascarella, Lino Giuliano ha risposto a dei commenti dei suoi followers con una nota di disappunto. Fatti due conti e risponditi da solo. Vedi quante infamie sono state dette su di me da parte di una persona che è stata vicina a me per quattro lunghi anni. Ha aggiunto. Sono stato il primo a assumere le mie responsabilità. Ho commesso degli errori, ma sono sempre stato me stesso, forte, chiaro e senza filtri. La questione della moto sembra aver scatenato una sorta di rivalità tra Lino Giuliano, Maika Randazzo e Alessia Pascarella, con accuse di bugie e infamie che vengono addressate pubblicamente tramite i social media. La situazione sembra essere molto delicata e le parti coinvolte sembrano essere ancora molto emotivamente coinvolte. Nonostante tutto, Lino Giuliano sembra voler difendere la sua versione dei fatti e la sua reputazione, affermando di essere sempre stato sincero e trasparente. Nonostante le polemiche, sembra che la storia tra Lino e Maika continui, nonostante le controversie e le tensioni con Alessia Pascarella. Resta da vedere come evolverà questa vicenda e se verranno fatte ulteriori dichiarazioni pubbliche in merito alla questione della moto e alle accuse mosse tra le varie parti coinvolte.